Nell'immensità dell'universo ogni cosa è soggettiva, non oggettiva. Il messaggio di internet arriva alla grande area popolata per programmare il nuovo mondo. Le creature extraterrestri sono i nostri amici e fratelli. La telepathy makes them fair. La telepatia fa essere giusti. La telepatia fa essere giusti. La telepatia fa essere giusti. La mancanza di denaro li fa essere una famiglia. Un minuto d'orologio per andare alla foresta per il messaggio. La telepatia fa essere giusti. 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 L'influenza gravitazionale del pianeta Nibiru causa questi eventi. Areddish Sea, Bardabunga Vulcano, Midwest Caldera, Fissured Land, Sinkol, Are Exemplates of the Cange. Esempi di cambiamento sono le fessurazioni nella terra, le voragini in Sinkol, il mare divenuto color rossastro, il vulcano Bardabunga e la caldera del Midwest degli Stati Uniti. Anche perché sono molto popolate sono esposte al rischio sismico gli Stati Uniti d'America e l'area mediterranea. Anche perché sono molto popolate sono esposte al rischio sismico gli Stati Uniti d'America e l'area mediterranea. I terremoti nel Ploceano Pacifico e l'Italia sono indicati al rischio sismico gli Stati Uniti d'America e l'Italia. I terremoti nel Ploceano Pacifico e l'area mediterranea e l'Italia sono indicati al rischio sismico gli Stati Uniti d'America e l'area mediterranea. Le creature straterrestri arrivano dal pianeta Nibiru per il meeting qui sulla terra. Place, wait and jet the change. Pazientate e arrivo al cambiamento. This is a sacred forest. Questa è una foresta sacra. PASTA 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 Interается Grazie a tutti Questo è il cambiamento Gennaro Gelmini 2 settembre 2014